Nella giornata di domenica 25 luglio diversi comuni hanno partecipato alla consegna delle cinque vele di Lega Ambiente e alla presentazione della guida blu che celebra le località turistiche selezionate. Presenti anche i comuni di Agropoli, Castellabate e Pisciotta che hanno ricevuto le tre vele di Lega Ambiente e Touring Club. Una straordinaria e importante opportunità che donano prestigio e lustro alle nostre comunità grazie al lavoro sinergico e dall'azione virtuosa e a Lega Ambiente per questo costruire costante per essere alleati fondamentali per la crescita e la sostenibilità ambientale ed economica del territorio. Ci rende particolarmente orgogliosi e soddisfatti, dichiara Christian Greco, giovane esponente del Partito Democratico. Durante la cerimonia c'è stata anche l'occasione per rimarcare le buone pratiche di sostenibilità ambientali che il territorio del Cilento sta portando avanti. L'ambito riconoscimento suggella anche nel 2021 il primato del mare di Castellabate nel comprensorio cilento antico Pollica Montecorice San Mauro Castellabate. Anche quest'anno tra le più belle d'Italia attestandosi al terzo posto nella classifica nazionale, dichiara il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Presente per la città di Agropoli l'assessore all'ambiente Rosa Lampasona. Bisogna collaborare, creare sinergie e ha detto con la prospettiva per il futuro che la città di Agropoli possa ottenere l'ambito riconoscimento delle cinque vele di lega ambiente. La coesione è fondamentale nel turismo ma anche nella difesa dell'ambiente. L'ambiente non conosce confine, non li conosce a livello planetario, tanto più non li conosce a livello locale, regionale e nazionale. Il nostro auspicio è che si possa aumentare la coesione tra le amministrazioni. Noi proviamo quando è possibile a fare i pontieri, quando è necessario. Molto spesso le interlocuzioni, le collaborazioni sono già così avanzate che non è necessario. Comunque noi proviamo a farlo quando è necessario. Devo dire che poi in questi anni noi abbiamo avuto modo di riconoscere e riconoscere la grande fatica. Normalmente consideriamo il lavoro degli amministratori di molti politici un lavoro straordinario, fatto di abnegazione e di fatica e proviamo almeno per qualche giorno, come dice un proverbio, a camminare con le vostre scarpe. Per cui siamo consapevoli che dobbiamo metterci in atteggiamento di collaborazione, possibile quando richiesto. Per cui siamo noi che vi ringraziamo. Speriamo prestissimo che possiate guadagnare ulteriori vele.